E là, siamo tornati Buonasera ragazzi, benvenuti sul canale e benvenuti in questo nuovo video dopo un sacco, 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 sacco di tempo In questo video voglio annunciarvi un po' di cambiamenti che avverranno la settimana prossima Ma voglio essere molto breve e conciso perché l'ho già registrato una volta e ci ho messo tipo un sacco di tempo troppissimo Quindi partiamo subito con il first incredible cambiamento number one Primo cambiamento riguarderà i video, come saprete benissimo martedì prossimo uscirà la nuova stagione di Destiny Quindi ci saranno nuove cose da fare ma non voglio dilungarmi troppo sulla stagione perché ne parleremo meglio questa domenica in live sul canale di Luga Come al solito ovviamente ci saranno anche tutti gli altri ragazzi della community e faremo il solito salottino che facciamo ogni volta prima della stagione Quindi mi raccomando non mancate Con la nuova stagione quindi arriveranno ovviamente tanti video a riguardo e in particolare un cambiamento che riguarderà i video sarà proprio il fatto che Ho un cacciavite in mano, si vabbè Che le serie verranno completamente eliminate Per quale motivo? In passato sul canale abbiamo portato qualche gioco a mo' di serie Alcuni sono andati molto molto bene come per esempio di Fallen Horror o come va sempre bene la serie di Destiny Mentre altre sono state un po' carenti come per esempio Avengers o The Last of Us 2 Dato che quindi fare una serie tramite video è molto molto impegnativo perché devo giocare tutto il gioco praticamente di fila E il computer è sempre acceso sempre a registrare o a renderizzare Quindi è molto molto impegnativo Abbiamo preferito decidere di eliminarle Tuttavia quest'anno usciranno un sacco di giochi che in qualche modo vogliamo portarvi Quindi per riuscire a trovare una via di mezzo abbiamo deciso di trasferire le serie da video a live Questo significa che essenzialmente vi diremo in anticipo quando appunto arriverà un nuovo gioco su cui fare una serie E per un certo periodo quindi live giocheremo a quel gioco Cercherò di giocare il più possibile insieme a voi ovviamente magari se devo formare qualcosa Insomma robe noiose da vedere ve le salto e semplicemente ci rivediamo una volta che le ho completate A questo proposito quindi passiamo al secondo cambiamento che riguarderà le live Come avrete intuito in live non porteremo più solamente Destiny Destiny rimarrà sempre il centro del canale come sappiamo ormai da anni E infatti i video rimarranno solamente su Destiny Però per quanto riguarda le live cercheremo innanzitutto di essere in live molto più spesso Magari fare anche addirittura due live al giorno con l'ora riuscissimo E tuttavia non porteremo solo Destiny Anche perché se rimarrà tutti i giorni Destiny non ci sono i contenuti carabangi Quindi appunto oltre anche a questi giochi nuovi vogliamo portare i giochi che essenzialmente stiamo giocando in questo momento Un esempio può essere Crash Bandicoot che io al momento mi sto rigiocando E lì le bestemmie non sono poche O per esempio un'idea che mi era venuta in mente dato che quest'anno uscirà Horizon Zero Dawn 2 Era di rigiocare il primo in live per chi non l'avessi giocato Perché è veramente un bellissimo bellissimo gioco E penso che sarà forse la prima serie che arriverà sul canale in questa modalità delle live Quindi ragazzi io ho detto tutto quello che c'era da dire Vi rimando ovviamente a domenica dove vi ricordo che appunto faremo questo salottino insieme a tutti gli altri ragazzi Non mancate poi martedì alle 18 in live per giocare insieme alla nuova stagione E detto questo noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao